bella ragazzi sono condor sei sulla propria no tu non sei condor io sono condor io sono condor provalo bella a tutti i ragazzi io sono condor e lui è condor no un'altra prova non è nessuna prova si guarda che prova la vuoi vedere? si io voglio vedere dai che vuoi vedere sta prova la vuoi vedere veramente? si ok aspetta che la devo prendere ecco la prova oh mio dio è vero? tu non sei condor io sono condor io sono condor ma io sono estiva io sono condor ora per torno ora per torno a la prossima e insieme al video ok? ok aiuto aiuto vediamo che nulla è successo nulla è successo ok guarda ragazzi ci sono più condor adesso faremo la nuova modalità e io sono condor allora basta è la seconda volta che vi facciamo l'inizio ok? vai tu pronto e andiamo ok? si no muoviti ma che cos'è sto evento? ma che ne so ma che ne so ma io ho letto sta cosa ho letto evento ragazzi vi volevo dire anche una cosa molto speciale tra poco io carissima Crosco eh faremo un video musicale che balliamo ti prego no si ci siamo comprati anche i vestiti il suicidio è meglio lo faccio da solo? allora no lo voglio fare eh allora stavo scherzando che evento è? io non ho capito oh sta volando solo tu vuoli io vedo presentazione modalità creativa ecco io ora si ora si ecco buongiorno io sono in connessione in corso è un figlio è un figlio è un figlio no 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 sto in connessione in corso è un figlio io metto attivo posto che figata via a sederti muoviti dove sei condor qua attivo posto quello qua attivo posto ok io metto qua loro sono i dj prendi il telefono oh ma cosa ti devi sta cosa oh dove devo sta roba grazie 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 oh andiamo pronto time c'è tutto time non urlare basta non parlare godiamo godiamolo godiamolo no godiamoci non parlare non parliamo ma no non parliamo non parliamo non parliamo Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Amico Grazie a tutti 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 2 Grazie a tutti 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 Eccomi Grazie a tutti 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 Ok Allora Grazie a tutti Grazie a tutti E poi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perfetto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti